Mi è arrivato un pacco Bene, quindi oggi parte una nuova serie, diciamo Perché voglio aggiornare la mia postazione Dato che mi stava coinvolgendo un po' a annoiare E voglio un po' aggiornarla, diciamo Oggi mi è arrivato il primo componente Che andrò ad aggiungere alla mia scrivania E oggi andremo a fare l'unboxing e andremo ad applicarlo Su di essa, quindi Procediamo con l'unboxing Allora, non ho un setup su cui fare l'unboxing Ne vedete davvero poco di unboxing Allora, dovrò parlare un po' più forte Perché il microfono è là, ovviamente mi servono due mani Per aprirlo, ma Ed eccole qua, Logitech MX Sound Sono delle casse Della Logitech Che hanno il Bluetooth Hanno un design bellissimo Minimalista, molto bello Ok, l'abbiamo capito E l'ho presa principalmente perché erano in offerta Da 90 euro a 50 euro Mi ho detto, ma chi? Ah no, scusate, no, non erano in offerta Le ho prese usate su Warehouse Deals E infatti sono un po' preoccupato per vedere come andrà a finire Ok, così mi dovreste vedere un po' meglio Comunque questo qua, il cavo di alimentazione Anch'esso grigio opaco Abbiamo la prima cassa Che ora però spostiamo Un cavo jack to jack E l'altra cassa E ora arriva la parte in cui dovrò montarle Anzi, prima ve le faccio vedere Le vedo anche io Dato che sono la prima volta che vedo queste casse dal vivo Wow, wow No va Sono una delle poche cose che su Amazon Fanno vedere in un modo che sembravano peggio comunque dal design Poi le vedi al vivo e dici No vabbè, è pazzesco Comunque questo cavo va collegato Questa qua è la cassa sinistra Left, yes È la cassa sinistra Dovrebbe esserci nella cassa destra Il buco in cui dovremmo collegare questo Come questi qua Sono i sub Per chi se lo stesse chiedendo E comunque sì Questo qua dobbiamo collegarlo Qui Per collegarle assieme Sono bellissimi dal punto di vista del design Ora vedremo dal punto di vista acustico Non vedo l'ora di provarle Queste qua le togliamo Questo qua pure Questo pure Comunque ho dovuto lasciare questo cavo Qui in basso Ma Devo trovare Comunque cose mie Il cable management Sicuramente Devo rifarlo Perché ci sono alcuni problemi C'è un cazzo di problema Non so dove mettere il cavo Non c'entra a nessuna parte Ho tolto pure la luce Qui Ma Non c'entra Devo togliere questo Devo staccare il modem Vaffanculo Ciao modem E infatti Si è interrotta la connessione Si sono accesi I led Qui Questo vuol dire che Ok Almeno si accendono Complimenti Comunque scherzavo Il cavo jack Che ci serve Perché abbiamo collegato dal computer Travite il jack Genio E se mi è piaciuto fare Sto giochettino qui Guardate Ok ragazzi Ho avuto alcuni problemi A montarli Quindi non l'avete visto benissimo C'è stato un casino Poi non capivo Perché non si collegassero Comunque Ora funzionano Però ancora non lo ho provate Quindi Le proveremo assieme E comunque si Adesso sistemo tutto il cable management Prima però Il test audio Devo dire Che sono pazzesche Sono ritornato Dopo aver sistemato il cable management Ora è tutto a posto Come state vedendo dalle immagini E vi E vi dico anche un po' Cosa ne penso di queste casse E vi dico già che sono Pazzesche Per 50 euro Il prezzo a cui lo acquistate Sono forse le migliori casse Che potete acquistare Io l'ho trovato su Amazon Warehouse Deals A 47 euro Non so fare altro che consigliarvi Questo servizio di Amazon Dato che Comunque le casse Non hanno nessun difetto Quindi è come se fossero nuove E però lo pagate 40 euro in meno Quindi Benissimo Quindi parlando Della resa acustica Anche lì non c'è nulla da dire Che forse per 90 euro Non è la migliore Qualità audio Che potete avere Ma per 50 Sì Per 50 sono veramente Dei best buy Vi parlo anche della tecnologia Di si switch Quando voi Siete sul computer E premete play sulla musica Partirà dal computer Quando siete dal telefono Perché sì Si possono collegare Da bluetooth Dato che sono Anche delle casse bluetooth Premete play E partiranno dal telefono Si interromperanno dal computer E questo è anche molto comodo Ah e non vi ho parlato Della cosa Una delle cose più importanti Per cui l'ho preso Ovvero il design Il design È davvero pazzesco Hanno una forma Pazzesco comunque La parola del giorno E inoltre nella cassa destra Ci sono pure dei pulsanti E voi Passate la mano davanti Alla cassa E si accendono questi pulsanti Che sono più o meno E la collezione bluetooth Prima di connettere al telefono Dovete premere Quel pulsante lì E si attiverà il bluetooth E basta vedere Che le sue funzioni Sono finite qui E noi ci vediamo Con il prossimo video E comunque questa serie Continuerà perché io farò Altri acquisti Per migliorare il mio setup Ma a poco a poco Ok? A poco a poco Noi ci rivediamo In un prossimo video Non del setup però